Il teatro della memoria e non possiamo non intervistare il padrone di casa. Leardo Cagliari, meritatamente, era ora, ha avuto l'Ambrogino d'Oro quest'anno. Grazie, come milanese benemerito. Il Shur Sindic mi ha battuto sulle spalle perché io gli ho detto, ma un piccolo contributo economico, niente, non abbiamo soldi. Il teatro della memoria è un bel esempio di imprenditoria culturale. Grazie, Shur Sindic. Sono vent'anni che tiriamo avanti da soli senza nessun aiuto. Grazie e arrivederci. In questo teatro è passato la storia dello spettacolo milanese Nani Svampa, Roberto Brivio. Facciamo prima a dire chi non è venuto perché sono venuti tutti. Sì, Walter Valdi, Brivio, Svampa, Liliana Feldman, Umberto Faini. Adesso tra i giovani Walter Di Gemma, poi è venuto Enrico Beruschi, la grande Merton Vaiani. Insomma, sono venuti a Piero Massarella, il grande che mi ha fatto l'onore di regalarmi il cappello del Ferravilla, del personaggio del Tecupa che i figli del Ferravilla hanno regalato al Piero Massarella e come testimone del teatro milanese il Piero l'ha regalato a me. Ringraziamo Aleardo e ricordiamo, a parte l'iniziativa di questa sera, caro papà, che al Teatro della Memoria c'è sempre la milanesità. Venite al Teatro della Memoria. Grazie. Il Teatro della Memoria in questo momento è minacciato da parecchi fattori, dalla indifferenza del Comune di Milano, anche dall'amministratore di condominio. Insomma, abbiamo dei problemi e via internet sul sito del Teatro della Memoria www.teatrolamemoria.it c'è una petizione, salviamo il Teatro milanese, salviamo il Teatro della Memoria. Si può firmare via internet. Grazie. Grazie.